Ciao a tutti ragazzi, io sono EspyRoyal e qui con me ci sono i miei due cugini come vi ho promesso. Guardate, questi sono i miei due cugini. Allora ragazzi, scusate perché non ho potuto portare i video, era perché non c'ho avuto linea e tutte queste cose. Poi però, quando arriveremo al mio paese, vi porterò una prova a non spaventarsi o una prova a non ridere. Ragazzi, per questo video arriviamo a 4 like, visto che non ne sto facendo quasi più i video. Ehm, ragazzi, è da due anni, lo so che non sto facendo i video, è perché non continuo, che non c'ho la linea e perciò ho deciso di oggi fare un mini vlog, così poi lo pubblicherò quando ci avrò sta cazzo di linea. Scusate per la parola ragazzi, lo so che non mi vedete mai bestemmiare come un cane, però ragazzi, allora. Ora però vi faremo vedere un pochettino la zona e pure un paio di gatti. Allora, cochina, e qua c'è cochina, e questo, porco diesel, devo accendere la torcia. Allora, non è cochina, forse, non è cochina. Allora, ho guardato il video, questa è la mia nuova auto, questo è il cane dei miei cugini. Il cane, il gatto dei miei cugini. È arrivato! Oppa se! Ehi, questo che è? Un beccone! Un beccone!